L'acqua resta pubblica, lo ha deciso la Corte Costituzionale, sentenza numero 199, depositata ieri. Il voto referendario dei 27 milioni di italiani dunque non è stato tradito. La consulta infatti ha dichiarato illegittimo l'articolo 4 del decreto varato dal governo Berlusconi un anno fa e risistemato da Monti. Il pacchetto studiato dall'allora ministro Tremonti riguardava le misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, che in sostanza puntava all'obbligo di vendita dei servizi pubblici locali. Sei regioni avevano presentato ricorso contro la violazione di diversi articoli della Costituzione, una violazione riconosciuta dalla consulta che in 17 pagine spiega il perché di questa bocciatura. Esulta il popolo dei referendum una doppia vittoria alla loro, la raccolta delle firme, il primo via libera della consulta su quei tre temi cari all'opinione pubblica, no alla privatizzazione dell'acqua, no al nucleare, no alla legge sul legittimo impedimento, quella che avrebbe salvato Berlusconi dai processi. Andò a votare il 57% degli aventi diritto e il sì raggiunsero il 94%, una maggioranza bulgara si visse. La beffa arrivò due mesi dopo quando Tremonti, in piena emergenza economica, reintrodusse la possibilità per comuni e regioni di vendere i beni pubblici. Le norme che volevano respingere il referendum al mittente sono state bocciare. Ora, evitato quello che il forum dei movimenti definisce un saccheggio, resta da risolvere la contestata posizione del sindaco della capitale. Alemanno ha infatti dichiarato di voler comunque vendere da oggi il 21% delle quote di Acea, l'azienda municipale romana che gestisce appunto l'acqua pubblica.